Un panino da braccio di ferro! Con il mio salamotti e il tocco dello chef! Taglio il cipollotto julienne! Trito il lardo! Distruggo uno spicchio d'aglio! Preparo un bouquet garni e lo aggiungo all'olio insieme all'aglio! Dentro il lardo e soffrigo! Fagioli, cannellini! Aggiungo il pomodoro e faccio cuocere per un'ora! Peperoncino e mi dedico al salamotto! Ma che braccio ha? Ne taglio una fettina! Dai Manuel, è la ruota di un camion questa! Ospi se le bu! Manca un tuo calde formai! Calde le mecavre! È arrivato il momento del panino! Lo taglio con un coltello a sega! È dentro la fagiolata! Giro di pepe! Aggiungo le fettine di formaggio! Cipollotto crudo! E copro tutto con il salame! È il me piace! Scarola saltata a sgrassare! Chiudiamo il panino! Manuel, ma per quante persone è? Questo è per la mia colazione! E allora tagliamolo! Vediamo com'è all'interno! Un capolavoro multistrato straordinario! Oh ma lo assaggiamo o chi? Allora cosa ne pensi? Straordinario!